Musica Tiene banco la polemica per la celebrazione, o meglio la mancata celebrazione del congresso provinciale del PDL casertano Ne parliamo con l'onorevole Angelo Polverino, esponente di primissimo piano del PDL casertano Onorevole, una serie di rinvii molti inspiegabili Ci dice perché non si riesce a celebrare il congresso a Caserta? Non lo so, forse qualcuno è terrorizzato dalla celebrazione del congresso Il fatto sta che in Italia si è svolto il congresso in tutte le province, a me tranne in tre province, fra cui la solita provincia di Caserta Ora sicuramente, come dice il senatore Giuliano, non decide Angelo Polverino la data del congresso A me interessa che si svolga il congresso, a me interessa questo Interessa che ci sia un rinnovamento, che ci siano nuove volontà, che ci siano nuovi interessi, che ci sia una discussione, che ci sia un confronto, che ci sia un'apertura della sede che è aperta una volta al mese negli ultimi due anni Tutta una serie di circostanze che sono il presupposto di un vissuto all'interno di un partito come quello dell'APD Io solo questo voglio, voglio potermi esprimere, cosa che mi è impossibile oggi, all'interno di un partito con un esecutivo, una maggioranza, una minoranza, un'eguaglianza Non lo so, tutta una serie di prerogative che io ho la necessità, soprattutto per rappresentare al meglio le persone che mi hanno votato Per poter dire la mia all'interno del partito, oggi io questa mia non la riesco ad esprimere Onorevole, chi e perché impedisce, come lei dice, una celebrazione democratica del congresso che potrebbe aprire anche un dibattito politico interno alla luce della partecipazione? Non lo so, io so solo che, ripeto, si svolta da tutte le parti C'è chi frena il processo naturale, democratico, che è lo svolgimento di questo congresso Ma comunque sono fortemente convinto, perché sarebbe deleterio per Nitro Palma, Mario Landolfi, non svolgere il congresso in provincia di Casera Naturalmente adesso non è il caso, stiamo facendo le elezioni amministrative in comuni importanti come quello di Mondragone, Averso E qui dobbiamo pensare alle elezioni, ma una volta terminate le elezioni io sono sicuro che non ci sarà freno che tenga E ci sarà un congresso dove ci sarà chi vincerà e chi perderà, punto Solo questo, l'importante è farlo Dici, ma può darsi che fra un mese non ci sarà più PDL? Lo faremo con il nuovo nome, se è stato fatto in tutta età, a me non interessa Non teme che anche per il fatto che ci avviciniamo all'estate qualcuno possa pensare di rimandare tutto all'autunno? Questo le posso assicurare che è impossibile, perché c'è un movimento che equivale al 99% del partito Di sindaci, di consigli di provincia, di presidenti di partito Della base, nel vero senso, perché mi onoro di farne parte, della base che vuole il rinnovamento Vuole effettivamente, oppure, attenzione, può essere pure che arrestano gli stessi Però non si discute, ci mancherebbe altro Però uno sta da una parte, io la penso in modo diverso Io intendo il partito come dialogo continuo e costante Non necessariamente devo comandare io, però io ho una mia veduta, una mia visione del partito Che è la presenza, la quotidianità, la costanza, l'affrontare i problemi Anche il sabato e la domenica notte, compreso E siamo in tanti a ragionare così Quindi vogliamo un cambiamento, punto Poi, se sarà possibile, ma in altri anni saremo minoranza, come sempre è stato Ma dateci questa opportunità